Buonasera a tutti e benvenuti. Lunedì iniziano le votazioni per l'elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica Italiana. Grandi elettori, numero qualificato, Covid permettendo per quelle che possono essere le assenze o le difficoltà, un quorum, quindi una maggioranza, questo lo sappiamo anche dai giornali, l'abbiamo capito, quindi una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini, una maggioranza semplice per il quarto in avanti scrutinio e va bene il catafalco, l'insalatiera dove poi si va a inserire la scheda di voto, lo spoglio, il voto valido per conteggiare non è quello del singolo che si vota, ma bastano due voti per avere comunque un aspirante Presidente della Repubblica. Regole varie, tutto verrà organizzato nel migliore dei modi sicuramente, si inizia lunedì. Si inizia e si va a cercare chi. Il Presidente della Repubblica non si candida, ovvero nessuno si presenta o fa la campagna elettorale, poi è vero, non è vero, abbiamo nomi che in un certo senso così ci hanno fatto capire, tra virgolette, di un loro interesse a diventare Presidenti della Repubblica. In realtà non c'è un candidato, il Presidente della Repubblica viene scelto e purtroppo, dico io anche se vorrei davvero sbagliarvi, non ci sarà un voto corale unanime condiviso per la nomina del Presidente, posto che i gruppi politici diversi, che governano però insieme, questo dobbiamo dirlo, per l'elezione del Presidente tenderanno a portare avanti il loro candidato a dispetto del candidato degli altri. Questo lo sappiamo e non dobbiamo farci ingannare dal fatto di avere un governo tra virgolette quasi di unità nazionale dove tutti lavorano insieme perché sappiamo che lavorano insieme non in armonia, lavorano insieme semplicemente sotto legida di una figura importante che rappresenta anche all'estero il nostro governo, lavorano insieme perché delle elezioni anticipate porterebbero al dimezzamento dei membri del Parlamento, lavorano insieme perché c'è del denaro che deve affluire nelle casse dello Stato, il piano di resilienza, rinascita, rinnovamento e quindi c'è da fare, c'è da distribuire, c'è da organizzare. Diversamente non avremmo un governo purtroppo stabile. Ora trovare un Presidente della Repubblica che possa davvero essere il Presidente di tutti ritengo sarà difficile se non impossibile. Sappiamo che il Presidente della Repubblica viene eletto da alcuni con il consenso di altri, questo è un dato di fatto sostanzialmente. L'unica aspettativa che auspico per noi italiani è un Presidente della Repubblica che assicuri credibilità all'interno del Paese, all'interno di quelle che sono le forze sane della nazione, ma soprattutto all'esterno. Quindi una credibilità che per i prossimi sette anni possa far avere all'Italia la possibilità di crescere e di scambiare rapporti economici, internazionali, politici, sociali di alto profilo, di alto livello, riportando un po' l'Italia a quel ruolo che anche in passato, devo dire in un certo senso ha avuto e che oggi sta ritrovando probabilmente nel governo che ribadisco ha una figura in grado di in questo momento tenere uniti tutti. Poi sarà un uomo, sarà una donna, i nominativi sono tanti, questo lo vedremo perché è inutile fare un toto Presidente e stilare un elenco perché li leggiamo su qualunque quotidiano nazionale. Serve credibilità, serve credibilità, serve un candidato in grado di avere questa credibilità. Iniziamo lunedì, tutti noi abbiamo un nostro Presidente virtuale che auspichiamo possa essere eletto, non sarà semplice però ribadisco mettere d'accordo le forze politiche attuali. Grazie.